Il Natale è alle porte, questa mattina siamo venuti in Piazza del Popolo e abbiamo sentito i cittadini, abbiamo chiesto loro cosa vorrebbero avere come regalo dal sindaco Ricci per questo Natale 2021. C'è solo calimbarasto della scelta, situazioni che stanno migliorando. Il sindaco per sindaco è uno che secondo me si muove in maniera adeguata per le esigenze, però il cammino è lungo da fare. Quindi lei che cosa chiede? Più eventi in piazza? Non so, c'è qualcosa che secondo lei deve essere sistemato? Assolutamente, anche in piazza deve essere ripresa le buone abitudini che avevamo un po' di tempo fa, con le casettine, con i cosi, con un parco centrale dove si possono raccogliere esperienze, contatti e quant'altro. E quindi la vita del turista le va bene, insomma, nulla da rimproverare? La vita del turista mi va bene, insomma, si va a letto presto a fare i turisti a Pesaro perché alle 8 è tutto chiuso, non c'è sta grande illuminazione, sta grande apertura di negozi, questa è la vita del turista. La mattina è bello, ci sono i bar aperti, uno va in giro, c'è della bella gente e compra delle cose. Un pochino più di calma nel centro storico perché veramente tutta questa sbevazzata non se ne può più, uno. Due, la ristruttura, come possiamo definirle, le zone via Cesare Battisti, Viale della Vittoria, Fondo Porto sono una cosa indecente, per cui, insomma, ecco, sarebbe gradita una risistemazione. Ecco, cosa chiede al sindaco Ricci per questo Natale 2021? Dunque, meno le cose, diciamo, più eclatanti e invece più le cose necessarie, insomma, una sistemazione un po' della città nelle zone che magari sono un po' fuori dalla visibilità. Le strade da sistemare, che è tutte buche, sulla via Mancini è tutte foglie da pulire, che è un disastro.